Buonasera a tutti, è un piacere avere con noi il nostro Stefano Mangundo, che ringraziamo e per accelerare, visto che abbiamo un po' di ritardo, io lascerei subito la parola Buonasera a tutti, grazie Federica, grazie a Stefano Mancuso per la presenza, siamo molto onorati di averla in città qui ad Ascoli Piceno, ringraziamo la scuola di aritettura, l'Unicam, ringraziamo il Presidente Argonlini, grazie per tutto quello che sta facendo lui insieme a tutto il corpo docente e tutta l'Università, grazie a Roberta, a Federica e grazie a tutti voi, siamo molto contenti di averla qui perché in realtà stiamo strutturando un progetto Ascoli Green che è molto complesso e quindi riguarda non solo le piante, non solo i cerchi, ma anche tutto il discorso della mobilità sostenibile, stiamo parlando proprio una bicicletta, un piano regolatore di tutte le piste ciclabili, però in realtà le piante sono come le persone fondamentali nella nostra vita, ce ne accordiamo dell'importanza quando non ci sono più e quindi in realtà questa sera questa riflessione è importante per noi, per la nostra città, per i dati presenti in sala anche per avere spunti di progettazione di una visione futura della città di Ascoli, perché sarò molto breve, però in realtà la più grande sfida della città di Ascoli Viceno è rappresentata dal sito dell'ex elettrocarbon, noi abbiamo un'industria che ha prodotto negli anni 90 circa 1500 dipendenti, un'industria al centro di Ascoli, diciamo interessata da 27 ettari, in realtà adesso in sala sono presenti anche due dirigenti che insieme a me, insieme alla nostra amministrazione, sta riprogettando una rigenerazione, perché in realtà il nostro obiettivo è farne un grande parco verde, un esempio anche a livello italiano, per fare questo c'è bisogno anche di una progettazione futura, ma anche di competenze, la sua presenta è importante per noi anche per avere spunti, per cercare anche di trasformare un sito industriale in un sito sostenibile per trasformare questa città a livello green come accogliente per tutti coloro che vengono non solo a visitare, ma anche di scegliere, di vivere qui. Quindi siamo molto contenti, chiudo, perché in realtà ci vediamo talmente tanto sull'importanza dell'ecologia, del discorso ambientale per aumentare ancora di più la qualità della vita, tanto che abbiamo l'istituto di trono assessorata per la qualità della vita in giunta, perché in realtà per cercare di migliorare la qualità della vita vogliamo un po' di cittadini. Abbiamo lanciato un progetto tre anni fa che è molto interessante, che ha adottato una piatta, adottato una ruba, adottato una iola, in realtà abbiamo avuto oltre 40 adesioni e associazioni di cittadini di imprese che hanno curato quel pezzo di verde, quella piatta, quella iola, per noi è molto importante perché in realtà possiamo anche spendere milioni per la transizione ecologica. Però se poi il cittadino punta la carta a terra oppure taglia una piatta in modo inadatto, non possiamo fare nulla, sono soldi spregati. Quindi tutto parte dallo stesso e cerchiamo di fare il possibile. Grazie per la sua presenza. Allora adesso passerei la parola a Donatella Ferretti che... Grazie, io mi sono benvenuto al professor Marconi, sono davvero un grave onore e piacere per la qui, ringrazio anche il NICAM che ha voluto questo incontro, il direttore Sarcolini, le professoresse, il faccio del mondo, ma insomma tutte le persone che sono qui oggi in questa sala che è stata cortesemente appellita, io continuamente direi a questo punto, appellita con tantissime piante, ringrazio perché tra ieri che come sempre, il carico tra ieri che come sempre in questo sono estremamente sensibili su questo tema e visto che c'è quel professor Mancuso ci aspettiamo che queste piante reagiscano anche loro a quello che accadrà oggi in questa sala. Che dire, io sono molto affascinata dalle sue memorie, dai suoi studi, anche perché dal mio punto di vista, io insegno filosofia all'Iceo Classico di Ascoli, l'idea che il creato, o comunque il complesso degli utenti, la realtà stessa della quale siamo parte, sia un organismo unitario, all'interno del quale ogni elemento ha il suo ruolo, il suo posto, ma strettamente collegato in un'interazione profonda con gli altri. Quindi è chiaro che il mondo vegetale, che tra l'altro occupa la gran parte della realtà appunto, sicuramente ha un ruolo importante in questo senso. Nelle sue teorie io vedo, come dire, l'avanzare anche non solo un'idea che le piante hanno una vita in senso molto più ampio di quello che abbiamo inteso fino ad oggi, ma bisogna alzare anche un altro principio. Se c'è una vita, se c'è una reattività, se c'è una intelligenza, tutto questo porta con sé anche dei diritti. Quindi arriviamo a un principio importante che qualche filosofo ha già esplorato, cioè quello della natura come soggetto di vita, di rispetto, di vita di cura, un po' anche quello che ha detto il Papa nell'enciclica Laudato Sì, dove si parla di cura del creato. Quindi è davvero un grande piacere averla qui e ascoltarla stasera insieme a tanti cittadini. Grazie. Grazie. Allora, volevo introdurre il professor M'Acuso e dirgli che abbiamo molta voglia di sentire le sue cose, credo che lui sia come si può da tutti, quindi non c'è bisogno di presentarlo in senso tradizionale, poi lui si presenterà dicendo quello che è la sua... la sua... la visione, diciamo. E invece mi interessa parlare un momento anche degli aspetti ecco, volevo parlare e passare la parola al direttore Massimo Sargonini che però preferisce parlare dopo che ha parlato il professor M'Acuso, per cui diciamo già questo è un fuori programma che può essere inteso anche come una voglia di fare anche un po' di discussione perché ci interessa appunto parlare di questi argomenti. E in particolare poi con la professoressa Coggi Lipponi noi ci occupiamo di presentazione ambientale e il nostro focus è il verbo, sostanzialmente diciamo chiaramente in una visione integrata con l'antitettura, con gli spazi aperti. quindi il tema degli spazi aperti per noi è cruciale. Io penso che la città, diciamo lo spazio aperto è l'anticamera della città e cioè quello che ci dice se c'è qualità in una città e quindi il tema del comfort, dello stare bene, dell'architettura, ma dell'architettura integrata con dei sistemi che siano naturali, questo fa parte diciamo di una vecchia tradizione che tra l'altro è presente anche nell'architettura contemporanea. Cioè non è vero che nell'architettura contemporanea il verde non è stato mai contemplato, anzi città come Vienna, Cianno Ring, la città Giardino stessa era concepita come una città integrata con il verde e quindi dobbiamo essere in grado di lavorare con l'architettura e la città in modo integrato e rendendo la città sempre più in sintonia con la natura. Quindi questo prevede inevitabilmente un verde che è un verde naturale che però si impossessa come a volte succede anche in architetture di oggi, il verde si impossessa degli edifici e quindi diventa un sistema che in qualche modo viene veramente integrato. In questo senso la nostra visione è proprio quella di lavorare partendo dallo spazio aperto per farlo come un elemento di assoluta qualità che deve distinguere le città e deve dargli una connotazione sicuramente adatta a questa transizione che dobbiamo necessariamente fare e che però ci dà delle opportunità veramente buone di trasformare le nostre città in città più salutari, più in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e in grado di perlomeno mitigare quelli che sono gli effetti che ormai tutti sappiamo nei cambiamenti climatici. In questo senso io adesso passerei la parola a un momento senza conciclifoni per dire due cose su come appunto lavoriamo e quindi anche per poter poi discutere un pochino col professor Mancuso ma in modo molto rapido senza, diciamo, apprezzare di dire però ci interessa per vedere e anche sentire le sue cose. Grazie Federica. Io non voglio far tempo perché ovviamente questo tempo è preziosissimo e avere qui il professor Mancuso è veramente una gioia enorme. La cosa che posso dire è che io ho seguito barra inseguito il professor Mancuso l'ho letto barra studiato questo, mi farò concluso, perché ho trovato proprio un approccio così profondo, così capillare nelle cose insomma che trattava e che riusciva a permeare in tutti gli ambiti. Quindi partendo dalla sua disciplina, come io parto dalla mia disciplina, non sono un architetto, in tanti lo sanno, ho una laurea in fisica, in fisica teorica, però nel stesso tempo ho cercato di supportare l'architettura, di supportare l'ingegneria sempre dimossa da grande passione, da grande emozione. Quello che io ho visto fino alle prime letture del professor Mancuso, dei testi, tantissimi testi del professor Mancuso ma anche dai suoi interventi, era questa grandissima emozione, questa risonanza totale che alla fine costava quasi a ribaltare un paradigma e qualche volta ho cercato anche di farlo. Nel senso che le piante effettivamente risuonano e in un certo senso sono parte veramente importante. Questo video che abbiamo alle Spar, non dico solo, che è stato prodotto da Deproducer e da Franco Relli per uno dei tantissimi interventi che il professor Mancuso ha fatto, tenta in un certo senso di far capire quanto siano importanti gli alberi, le piante, quanto sia fondamentale la loro presenza, la prima maestra vegetale, il 27,23, e lui adesso ci lo dirà, noi siamo al 0,01%. Questa cosa mi colpì tantissimo, anche se con i numeri ci dà una donna che dà numeri, ma il professore è un uomo che dà numeri, lo cito, perché questa è una cosa che lo stesso dice, e nello stesso tempo anche noi all'interno dei nostri piccoli studi abbiamo cercato proprio di portare questa massa vegetale, questa presenza del verbo in tutte le sue forme per cercare veramente di risollevare le soste di quello che non è un cambiamento, quindi il tipo, insomma appunto perché nella parola cambiamento c'è una naturalezza, una dualità, tra volte qualcosa di naturale che il naturale non è, quindi questo invece è il suo riscaldamento globale che ci sta veramente distruggendo, quindi è un problema forte e nonostante che è tutto quello che facciamo, i sostanzi sono veramente minimi. Allora, la chiave di lettura che ho trovato nei suoi testi, che alcuni sono aggrappato per cercare di significare quello che noi cerchiamo di portare all'interno di dei laboratori all'interno dei nostri studi con i ragazzi, è quello di dare veramente alta risonanza ad una, diciamo, presenza verde che vive, che con tutti gli effetti respirativi risponde, che riesce veramente a risolvere, a cambiare e lo vediamo anche nelle nostre situazioni e nel soggetto dei ragazzi, perché quando ovviamente simuliamo questo si vede la potenza effettiva del verde, a risollevare forse questi soldi. Quindi, diciamo che ci ha unito un po' questa visione, questo modo quasi, così, diciamo, utopico di utilizzare il verde come il primo strumento di progetto e quindi in un certo senso forse che diventi un elemento fondante e un elemento importante. Noi cerchiamo di fare questo, ma adesso lascio, grazie per la presentazione, sono sicuro, il professor Mancuso, lui Loro, perché ovviamente abbiamo voglia di ascoltarlo. Noi vi ringrazio per l'attenzione, ma anche tantissime persone che mi sono collegate via sui e vi ringrazio per ascoltarmi. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie al Sindaco, all'Assessore Per, anche per la pazienza, tutti voi. Sono in ritardo, ma non mi aspettavo di trovare la neve per strada, il che mi ha rallentato un pochino. Quindi scusatemi anche per il kitab, grazie a Federica e a Roberta, vero? Vi ricordo bene per l'introduzione e per le parole di stima. Iniziamo, di cosa parlerò in questa chiacchierata? Innanzitutto, come dice Roberta, cercherò di dare qualche numero che racconta la situazione in cui ci troviamo, dopodiché parleremo delle nostre amate città e vedremo, secondo me, quali sono le prospettive e che cos'è possibile fare per rendere, diciamo, meno impattante la nostra presenza sul pianeta. Ma iniziamo con i numeri e con i dati. Diceva l'Assessore prima, queste piante, non so se stanno reagendo a noi. Loro non so se stanno reagendo, noi stiamo sicuramente reagendo, tanto che una delle cose che poi vi suggeri io è quella di coprire le piante anche negli interni, di coprire, scusate, i nostri edifici anche negli interni con le piante. Sono molto grato del fatto che questa sala, già questa sala dei Sabi, la questione mi onora moltissimo, abbia delle piante, sia stata adobbata con delle piante. Però le piante non devono essere degli addobbi, devono diventare proprio una parte fondamentale della nostra relazione con la natura in città. Ma iniziamo da prima. La vita. Questo è fondamentale. Noi dobbiamo innanzitutto sapere com'è fatta la vita di questo pianeta, perché ne abbiamo un'idea approssimativa, direi molto spesso anche errata. Noi guardiamo alla vita con i nostri occhi, inevitabilmente. Noi siamo uomini e quindi non possiamo altro che guardare alla vita con i nostri occhi umani. Però dobbiamo avere la consapevolezza che questo punto di vista può essere un punto di vista che porta alla visione una certa distorsione dell'immagine. E qual è questa distorsione? È ad esempio immaginare che noi siamo il centro del pianeta. gli esseri più complessi, cioè i veri dominatori del pianeta, ne parleremo. Però prima volevo darvi un numero. Le piante rappresentano l'86% della biomassa. Cioè, cos'è la biomassa? È il peso della vita. Se noi potessimo metterle su una bilancia, tutte le piante del pianeta rappresentano l'86% della vita. Gli animali, non noi uomini, tutti gli animali insieme, quindi tutti i mammiferi, i rettili, i pesci, gli affipi, gli uccelli, gli insetti, eccetera, rappresentano un misero 0,3% in peso. Di questo 0,3% noi siamo, come dico dalla prima robetta, una parte del tutto irrilevante. La questione non è secondaria, guardate, questo numero, perché uno potrebbe dire, vabbè, che c'entra? Noi siamo lo 0,001 migliore? No. Purtroppo la natura non funziona in questa maniera. Il fatto che 500 milioni di anni fa noi ci si sia divisi fra piante e animali e che oggi le piante rappresentino l'86% e gli animali rappresentano lo 0,3%, sta a indicare inequivocabilmente dove stava la scelta giusta. Qual era la scelta giusta in termini di propagazione? Su questo non c'è alcun dubbio. Quello che dobbiamo fare è capire quali sono i vantaggi di questa scelta e usare il nostro cervello per utilizzarle all'interno della nostra vita. L'86% della vita è fatta da piante e lo 0,3% è fatto da animali. Le piante sono il motore stesso della vita, cioè se c'è la vita su questo pianeta è perché ci sono le piante. Questo è una cosa, diciamo, di nuovo di una banalità estrema, lo si impara alle scuole elementari, ma come lo si impara alle scuole elementari lo si dimentica in prima me. Noi siamo qui perché respiriamo l'ossigeno che è prodotto dalle piante, ma non solo, siamo qui perché mangiamo, qualunque cosa mangiamo, proviene in prima, l'energia che stiamo mangiando proviene dalle piante e non è finita qui. C'è il terzo punto, che è il punto ancora più importante e più nascosto di tutti. Le piante sono, di essere viventi, la cosa, diciamo, del pianeta più efficiente in assoluto nell'assorbire l'anidride carbonica, nel prendere l'anidride carbonica dall'atmosfera e fissarla all'interno del loro corpo. Ci sono degli studi, dei modelli che dicono che se le piante dovessero morire domani e rilasciare tutta l'anidride carbonica che hanno fissato nel corso della loro storia dell'atmosfera, la temperatura del pianeta arriverebbe a dei livelli tali da essere incompatibili con l'acqua liquida. C'è, la temperatura salirebbe oltre i 100 gradi, l'acqua inizierebbe a bollire, il che vuol dire che sterilizzerebbe completamente il nostro pianeta. Se le piante morissero, la temperatura arriverebbe a un livello tale da rendere il nostro pianeta identico a Marte, a Venere e a tutti quegli altri luoghi del sistema solare che conosciamo e che sono completamente sterili. Perché poi non dimentichiamolo, non dimentichiamolo questa roba che c'è tantissima vita nell'universo e bisognerà vedere. Questa è una di quelle distorsioni scientifiche di cui non riesco mai a capacitarmi. Gli scienziati sono scienziati. Gli scienziati, per loro natura, se non hanno dei dati su cui basare le loro supposizioni, devono astenersi dal farle o usare ancora di più, ancora meglio, c'è un famosissimo principio scientifico che si chiama principio di precauzione. Se non hai alcun dato che indica che quella cosa esiste, tu devi pensare che non esiste. Allora, noi al momento non abbiamo mai trovato niente che neanche lontanamente indichi che ci sia tutta questa vita nell'universo. È famosa la frase di Enrico Fermi, dove sono tutti? Diceva, ma come mai? Tutti stanno a parlare di vita intelligente, ce n'è tantissima. Einstein diceva che bisognava cercarla, la dovevamo trovare ancora sulla Terra, la vita intelligente. Però, l'affermazione di Fermi, dove sono tutti, è un'affermazione importantissima e non è un caso che venga da Fermi. Dove sono tutti? Non c'è niente, assolutamente. Non abbiamo nessuna indicazione che esista, non solo vita intelligente, che esista vita. È una questione statistica. Noi non possiamo pensare di essere così fortunati. Ora, vi ripeto, uno scienziato ha un principio che si chiama principio di precauzione. Però, pensate, se non fosse in qualunque altro campo della scienza, noi diremmo, esiste soltanto qua. Fino a quando non abbiamo una prova minima, anche un sospetto, un niente. La vita esiste solo qua. Ora, pensate che cosa significa questo. Pensate che cosa significa essere gli unici abitanti di un pianifico. Diciamo, vivere, stare su un pianeta che ospita la vita, l'unico. Cioè, potrebbe... Io credo che noi tendiamo a rimuovere questa idea, pensando che l'universo sia pienissimo di vita, quando quello che stiamo vedendo è assolutamente il contrario, perché questo ci darebbe una responsabilità enorme. Pensate che cosa vorrebbe dire se noi davvero fossimo l'unico pianeta che ospita la vita. Le implicazioni anche filosofiche sono, diciamo, di natura tale che ora io non mi addentrerò dentro questo filone, semplicemente lo indico, perché mi sembra fondamentale, perché è legato proprio al nostro approccio alla natura. Credo che sia una responsabilità troppo alta per noi. Noi non possiamo pensare di avere questa responsabilità, di avere incarico, di essere i custodi dell'unico pianeta che ospita la vita. Infatti, ce ne freghiamo altamente e agiamo come se invece la vita fosse la cosa più comune che esiste nell'universo, nonostante noi, vi ripeto, non abbiamo mai trovato niente. Perché agiamo in questa maniera? E ora vi do i famosi numeri. Questo 86% di vita che è rappresentato dalle piante è rappresentato per lo più degli alberi. Su questo pianeta, 12.000 anni fa, cioè nel momento dell'inizio della civiltà umana, civiltà umana che ci ricolleghiamo poi al tema della seconda parte della chiacchierata, civis, viene la città. Il momento in cui l'uomo è diventato stanziale, non è stato più un raccoglitore e cacciatore, con la rivoluzione agricola diventa stanziale, costruisce le sue prime città. 12.000 anni fa inizia la civiltà umana. Bene, l'uomo ha 300.000 anni, omo sapiens, per 288.000 anni se ne è andato in giro per il pianeta senza fare danni, cioè comportandosi come un'altra specie naturale, tra tutte, perfettamente in equilibrio con l'ambiente. Dopodiché, 12.000 anni fa, c'è questa famosa rivoluzione agricola, la prima fondamentale rivoluzione, cambia il nostro modo, il nostro stile di vita, creiamo le città, nasce la civiltà. In 12.000 anni, dimezziamo gli alberi. Erano 6.000 miliardi, oggi sono 3.000 miliardi. Come tutti i numeri, però, che vi darò, dovete pensare, dovete immaginare che tutti i numeri hanno, stanno subendo una, hanno quest'andamento che gli inglesi chiamano ammazza da occhi. Che cosa? Perché l'ammazza da occhi ce l'avete presente, è fatta ad angolo reto. Per cui, tutti i dati, l'anidride carbonica, la temperatura, l'aumento della popolazione, il consumo delle risorse, la produzione di rifiuti, l'aumento della... Qualunque, prendete qualunque dato, vi viene in mente, che abbia una... che sia fondamentale e importante per la nostra sopravvivenza sul pianeta, troverete una curva di questo tipo, ad angolo reto. Anche negli alberi che abbiamo tagliato, ne abbiamo tagliati pochissimi, fino a due secoli fa. Negli ultimi due secoli ne abbiamo tagliati fra i due e i tre mila, quei due e i tre mila miliardi di alberi che abbiamo tagliato nella nostra storia, almeno due mila miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. E non è un'idea intelligente, ovviamente, perché noi dipendiamo da questi alberi, proprio dipendiamela, per questo che vi dicevo, lo impariamo all'elementare e lo dimentichiamo dopo pochissimo, come se fosse ininfluente, è una dipendenza diretta, proprio diretta, senza di loro non potremmo esserci. E quindi non è una cosa saggia, diciamo, visto che siamo dei sabi, una cosa non saggia è tagliare gli alberi. Quando tagliamo gli alberi, tagliamo anche tutta la biodiversità, gli animali che vivono insieme, che stanno insieme. Quando ci preoccupiamo della foresta amazzonica, diciamo, guardate, la foresta amazzonica, c'è un problema enorme. Se continuiamo a tagliarla con i tassi con la quale la stiamo tagliando ora, nel 2030, la foresta amazzonica sarà irrimediabilmente persa. Cioè, inizierà una trasformazione verso una steppa. Questo lo dice qualunque modello serio sia stato prodotto negli ultimi 15 anni. Se continueremo a tagliare la foresta amazzonica per altri sette anni, come abbiamo fatto finora, l'abbiamo persa. Che cosa vuol dire perdere la foresta amazzonica? È una questione a cui non si può rispondere. Perché la foresta amazzonica entra praticamente in qualunque ciclo vitale. In qualunque. Che ne so, la produzione delle nuvole, le nuvole che i cicli nuvolosi che poi portano l'acqua a cadere sull'Italia si producono in gran parte attraverso la traspirazione degli alberi in Amazzonia. Per cui, quando questa enorme foresta prenderà la strada per diventare una steppa, questo sarà un momento irreversibile. È un cambiamento da cui non potremo più tornare indietro. Qualunque cosa faremo. Cioè sarà un pianeta diverso. Non è soltanto, diciamo, la sua importanza per quanto riguarda, diciamo, questi cicli vitali. L'Amazzonia ha un'importanza fondamentale perché ospita la maggior parte della vita. Quando noi tagliamo l'Amazzonia scompaiono anche tutte queste altre specie. Uno potrebbe dire vabbè, chi se ne frega che scompaiono tutte queste altre specie. E qui un altro errore enorme. perché la vita non è la nostra vita. La vita è una è una faccenda di connessioni fra specie. Tutte le specie sono connesse. Dovete immaginare la vita come una rete. Ogni volta che scompare una specie scompare un nodo della rete. A un certo punto l'intera rete non collassa, non ce la fa più. E realmente questo è non vi sto non è una mitafora. Funziona in questa maniera. E allora che sta su che come mai ci dobbiamo preoccupare? A me ci dobbiamo preoccupare perché per esempio la foresta amazzonica uno potrebbe dire come mai hanno questa fortuna questi brasiliani, colombiani, perubiani altri 4-5 paesi di avere una foresta primaria perché questa è la grande differenza della foresta amazzonica. Una foresta primaria è una foresta in cui l'influenza dell'uomo non è stata esercitata. Questa è una foresta primaria. Come mai hanno questa fortuna? Noi perché non ce l'abbiamo? Come mai siamo così sfortunati noi poveri europei? Ci sarebbe fatto comodo anche a noi una foresta primaria. Noi la foresta primaria non ce l'abbiamo perché l'abbiamo tagliata ma non l'abbiamo tagliata come si come dice la vulgata quei cattivoni dei romani arrivavano tagliavano gli alberi per costruire le navi o per bruciare per fare il ferro perché i romani erano 4 gatti e come 4 gatti tagliavano 4 alberi. La foresta primaria europea noi l'abbiamo tagliata negli ultimi 170 anni. Nel 1820 una persona che fosse partita da Palermo per andare a Oslo avrebbe viaggiato quasi ininterrottamente all'interno di una foresta primaria intoccata. Sono passate tre generazioni e di questa foresta primaria europea sapete quanta ce n'è? Zero. Cioè non è rimasta un metro quadro. io vorrei che questi numeri fossero chiari perché non sono numeri che descrivono un lento cambiamento sono numeri che descrivono un apocalisse non è rimasto un metro quadro di foresta primaria europea in 170 anni. Nel 2021 il governo britannico commissiona all'università di Cambridge e al mio amico sotto la guida di un mio caro amico che è il professor Dasgupta un report sullo stato della biodiversità perché lo vuole sapere il governo britannico? Perché gliene freghi nulla dello stato della biodiversità quello che vuole sapere dall'università di Cambridge è quanto ci costa questa perdita di biodiversità perché ha un costo ne parleremo di questo costo ma prima di parlare dei costi io vi veramente vi suggerisco suggerisco chiunque di voi abbia il minimo interesse su questi temi di recuperare in internet questo report del 2021 di Cambridge sulla biodiversità è un report molto corposo di 500 pagine non c'è bisogno che ve lo leggete tutto c'è una versione sintetica di 15 pagine che riporta i dati fondamentali io direi veramente che chiunque qualunque persona di buon senso dovrebbe sapere cosa c'è scritto in quelle 15 pagine non è ammissibile che oggi una informazione di questo tipo non sia conosciuta perché in queste 15 pagine si leggono e vi ripeto non vi sto citando una appositamente di dati come questi ce ne sono tanti ma io vi cito quelli dell'università di Cambridge che è una delle istituzioni scientifiche più prestigiose e serie del pianeta scoprite dei dati che non fossero stati scritti di nuovo dall'università di Cambridge io non avrei enormi difficoltà a credere che sono vero dal 1970 ad oggi in 50 anni 1970 ad oggi il numero di animali il numero non le specie non i tipi non le varietà il numero di tutti gli animali presenti sul pianeta è diminuito del 70% li state ascoltando questi numeri cioè in 50 anni il numero di animali presenti sul pianeta è diminuito del 70% lo sapete cosa sono oggi i mammiferi presenti sul pianeta i mammiferi una volta erano non tanto tempo fa una gloriosa un glorioso gruppo di animali che governavano guidavano erano presenti in qualunque zona del pianeta sapete cosa sono oggi i mammiferi presenti sul pianeta il 96% dei mammiferi presenti sul pianeta sono uomini e animali che noi alleviamo per la nostra alimentazione il 96% gli uccelli vorrete sapere come stanno avessi gli uccelli quanti uccelli ci sono sul pianeta terra l'85% degli uccelli presenti sul pianeta terra sono bollate e i pesci lo sapete tutti non siete tanto distanti dal mare non c'è un modello uno solo modello oggi già oggi sapete che il 99% del pesce che comprate di allevamento il 99% nei prossimi 30 anni nel 2050 non c'è un solo modello serio che dica ci saranno più pesci selvatici cioè nel 2050 fra 30 anni avremo terminato i pesci ci saranno soltanto i pesci d'allevamento un tale un impatto di questo tipo sul pianeta non è un impatto non è un impatto dolce leggero breve che può essere in qualche maniera equilibrato è un impatto disastroso molto più disastroso dell'arrivo di un meteorite e guardate che ve lo dico con cognizione di caos noi siamo nel mezzo di quella che è stata chiamata la sesta estinzione di massa perché la sesta perché ce ne sono state cinque prima l'ultima qual era? l'ultima era quella che mette fine al Cretaceo quella che tutti quanti voi conoscete in cui terminano finiscono muoiono i dinosauri 70 milioni di anni fa cade questo meteorite sulla penisola dello Yucatan e si scatena un'estinzione di massa che fa sì che il 75% più o meno delle specie allora viventi scompaia ora noi abbiamo di questo evento normalmente una visione un po' da film cade il meteorite e per la volta muoiono i dinosauri in realtà è andato in maniera molto diversa è caduto il meteorite il meteorite ha cambiato il clima e nei 2 milioni di anni successivi è scomparso il 75% delle specie questa scomparsa in 2 milioni di anni fa della quinta estinzione di massa questa che mette fine al Cretaceo la più veloce estinzione che noi abbiamo mai registrato sul pianeta Terra 2 milioni di anni sono niente in termini di storia del pianeta e di vita bene oggi noi abbiamo un tasso di estinzione superiore a quello della fine del Cretaceo che però sta avvenendo non in 2 milioni di anni ma in qualche decennio e questo avrà delle conseguenze è veramente inevitabile è impossibile immaginare che un tasso di estinzione di questo tipo in un periodo così breve non avrà conseguenze per no è impossibile quali sono queste conseguenze beh ce ne sono di tanti tipi tanti una delle conseguenze sono questi famosi spillover l'aggressione all'ambiente ha delle dirette conseguenze che noi già paghiamo e che continuiamo a non voler vedere allora sul covid non sappiamo esattamente la catena causale ma su tutti questi altri spillover come che ne so l'ebola l'HIV sappiamo esattamente che cos'è accaduto il motivo scatenante cioè il passaggio dagli animali all'uomo di questi virus è dovuto a una questione tecnica su cui diciamo non ci addentriamo che si chiama deforestazione frammentata che è in realtà un veramente lo potete capire dal termine se immaginate che questa è una foresta quando noi entriamo e ne facciamo una tacchettina per solitamente prenderci legname o estrarci le risorse primarie o coltivarci roba non per l'alimentazione umana ma per l'alimentazione animale noi deforestiamo al 98% per far mangiare gli animali io veramente trovo molte delle nostre azioni hanno una tale illogicità da essere francamente quasi incomprensibili non si può immaginare che facciamo una cosa del genere bene questa deforestazione frammentata fa sì che noi di colpo entriamo in ambienti che prima erano stabili e diventiamo una delle nuove specie di questi ambienti stabili provocando queste zone questi spillover Lancet che è la più importante rivista di medicina del pianeta 30 anni fa pubblica un lavoro in cui dice guardate che attenzione perché queste zoonosi stanno questi spillover oggi ora li chiamiamo così stanno aumentando a dismisura negli ultimi 50 anni si sono quadruplicati negli ultimi 50 anni il 75% di tutte le malattie che nuove malattie che colpiscono l'uomo provengono da zoonosi sono dati che hanno una loro rilevanza ora parliamo dell'ultimo problema e poi parliamo delle soluzioni l'ultimo problema si chiama perché quello di cui abbiamo parlato finora è acqua fresca rispetto al riscaldamento globale il riscaldamento globale è a detta unanime della scienza il problema più grande che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia che cos'è il riscaldamento globale il riscaldamento globale è appunto l'aumento della temperatura del pianeta perché aumenta la temperatura del pianeta perché noi uomini le attività umane producono gas che provocano questo effetto serra cioè il pianeta si riscalda sotto i raggi del sole e come chiunque di voi quando entrate in una sera si è accorto sono molto calde perché non permette al calore di uscire fuori cioè il calore rimane intrappolato all'interno del pianeta è semplicissimo c'è una cosa che conosciamo dalla metà dell'ottocento fra l'altro con l'occasione per per rammentare che la scopritrice di tutto questo è stata una donna si chiama Eunice Futh completamente sconosciuta assolutamente mai citata viene sempre data la la scoperta del riscaldamento globale a un irlandese che non visiterò perché non se lo merita perché il con lei che ha scoperto il riscaldamento questo che cosa accade ai gas quando sono colpiti dalla dalla luce del sole cosa accade diciamo al nostro pianeta l'atmosfera del nostro pianeta si chiama Eunice Futh e lo ha scoperto ben 20 anni prima più o meno di questo irlandese sconosciuto e per una serie di motivi era una donna non poteva presentare non poteva presentare le sue le sue ricerche ai ai congressi non poteva pubblicare è stata diciamo dimenticata fortunatamente suo cognato le pubblicò mettendo anche il suo nome ma lo peggio diciamo proprio per poterla per poterla fare pubblicare questi dati che sono stati scoperti riscoperti qualche anno fa e quindi direi che da allora ogni volta che posso citare Eunice Futh Eunice è scritto e Eunice Futh è scritto come piede e Eunice piede ha scoperto il riscaldamento globale bene che cos'è il riscaldamento perché è fondamentale per noi perché il pianeta si sta riscaldando di quanto si sta scaldando lo avete sentito dire si è scaldato più o meno intorno a un grado e mezzo a livello globale entro fine secolo si scalderà inevitabilmente ben oltre i due gradi quindi qualunque affermazione che possiamo limitare il riscaldamento a un grado e mezzo è una menzogna è letteralmente una menzogna che viene raccontata non è vero forse se ci fosse un miracolo potremmo bloccare a due gradi ma giusto per capirci è sempre la storia delle medie sapete la storia delle medie del pollo di Trilussa le medie funzionano così ci sono bugie ma le dente bugie è la statistica scusate se ci sono dei statistici qui dentro questo è un modo di dire americano molto forte la media è questa ma giusto per capirci Roma rispetto al 1960 è 3,6 gradi più calda Bari è 3,1 gradi più calda Torino è 3,5 gradi più calda del 1960 l'Italia intera è ben oltre i due gradi due gradi e mezzo più alta della temperatura pre rivoluzione industriale perché noi siamo nel mezzo di una zona del pianeta che è il Mediterraneo che è un hot spot cioè sono dei luoghi in cui il riscaldamento globale agisce con un'efficacia con una forza con una potenza molto superiore al resto del pianeta comunque diciamo che arriva l'arcangelo Michele spiega le sue ali potenti e blocca l'anidride carbonica del pianeta oggi nel 2100 noi avremmo oltre due gradi di temperatura questo lo dico per essere chiari su che cosa accade l'arcangelo Michele non si sta facendo vedere la temperatura e l'anidride carbonica continua ad aumentare ora prima di dirvi quanto aumenta e come aumenta io vorrei soffermarmi un attimo sulla questione 2 gradi centigradi perché è una questione incredibilmente rilevante incredibilmente rilevante perché a una prima analisi così parlando di del più e del meno dire 2 gradi centigradi sembra parlare di nulla cosa saranno 2 gradi centigradi invece di 8 e 10 invece di 6 e 8 beh capirai se non sei molto raffinato non te ne accorgi questa è l'idea che abbiamo e invece è un'idea straordinariamente sbagliata credetemi è davvero sbagliata oltre ogni possibilità di sbaglio di errore perché vi faccio due esempi per farvi capire cosa sono 2 gradi centigradi intanto nella storia del pianeta non c'è mai stato un aumento di 2 gradi centigradi in un periodo così breve è sempre il periodo che è fondamentale una cosa è un fenomeno che appare e si muove e agisce in 20 milioni di anni una cosa è un fenomeno che appare e agisce in qualche decennio è tutta un'altra storia perché nei 20 milioni di anni il sistema si può in parte riequilibrare in qualche decennio no è giusto perché voi capiate cosa sono due gradi due esempi il primo c'è stato un periodo della storia europea più o meno dal 1400 diciamo al 1750 1700 1400 1700 prendiamo questi tre secoli in cui in Europa ha fatto un freddo del diavolo faceva freddissimo ma davvero freddo se voi leggete le cronache di questi tre secoli trovate cronache di un freddo spaventoso abbiamo le registrazioni in parte di queste temperature perché nel 1700 anche nel 1600 già le temperature si prendevano abbiamo i quadri abbiamo quadri che mostrano ghiaccio e neve in zone in cui noi non abbiamo mai visto ghiaccio e neve mai ed è stato iper studiato questo periodo ci sono letteralmente migliaia di volumi che trattano di questo periodo che ha un nome speciale è chiamato la piccola era glaciale è stato super studiato da qualunque punto di vista le caos le conseguenze la meteorologia sapete la piccola era glaciale su quale variazione di temperatura ha funzionato cioè perché partite a questa piccola era glaciale perché rispetto alla media la temperatura si è raffreddata di 0,4 gradi centigrani d'accordo? allora 4 decimi di grado in meno hanno provocato la piccola era glaciale pensate cosa faranno 2 gradi in più ma guardate che 2 gradi stiamo sempre 2 gradi stanno nella nell'apparizione dell'arcangelo Gabriele e Michele insieme che bloccano tutti saranno molti di più altro altro esempio la vostra temperatura la temperatura del vostro corpo 36 gradi e mezzo metteteci 2 gradi in più 38 gradi e mezzo state bene beh direi di no ecco questo è esattamente ciò che accade al nostro pianeta il nostro pianeta lo dovete vedere come un organismo vivente un organismo realmente un essere vivente 2 gradi in più in un periodo così breve sono un'enormità e perché è anche impossibile dire quali saranno le conseguenze di queste enormità perché la temperatura è il singolo parametro che cambia che influisce su qualunque reazione chimica e fisica che potete immaginare tutta la temperatura cambia tutto se volete sapere che cosa accadrà alle nostre città nel 2070 quindi fra meno di 50 anni andate su un sito del Politecnico di Zurigo vi cito di nuovo un altro un altro diciamo dei luoghi di eccellenza della ricerca mondiale andate sul Politecnico di Zurigo e cercate un sito che si chiama City Pairing che vuol dire accoppiamento di città che cos'è il City Pairing è un posto dove voi andate è molto semplice sta fatto proprio per spiegare che cos'è il riscaldamento globale andate lì mettete il nome della città che vi interessa non ci sono tutte ma più o meno ne trovate qualcuna vicina alla città che vi interessa mettete il nome della città che vi interessa e vi viene fuori il nome di una città che oggi ha il clima che la vostra città avrà tra 50 anni vi esce un esempio se mettete Roma vi viene Tunisi se mettete Firenze vi viene Marrakesh se mettete Trieste vi viene Catania e in parte uno potrebbe dire beh mica non si vive a Tunisi mica non si è a Marrakesh magari me la dire non se ne parli Trieste con Catania uno scambio meraviglioso ma queste città tutte queste città non sono costruite per essere Roma non è costruita per essere Tunisi Firenze non è costruita per essere Marrakesh Trieste non è costruita per essere Catania e soprattutto e questo lo dico perché mi accorgo che quando parlo di questi temi da Roma in su la vera domanda non ve la fate mentre da Roma in giù se la fanno da Roma in su no nessuno che si chiede scusa ma se Trieste diventa Catania Catania che diventa non ve la fate non se la fa mai nessuno beh gran parte del gran parte del sud Italia e tutto il nord Africa transiteranno verso un clima che oggi è tipico del sub sahel cioè di quelle zone da cui scappano tutti 50 anni 2000 nel 2070 e credete prendete questi dati come oro colato cioè pensare che non sarà vero vuol dire infilare la testa sotto la terra e non voler vedere la realtà nel 2070 il 18% della superficie del pianeta non sarà abitabile per estremi termici perché farà troppo caldo troppo caldo sapete quante persone abitano su questo 18% di terra 2 miliardi ora immaginatevelo questo futuro questi 2 miliardi di persone non è che si sposteranno perché andranno a cercare delle condizioni migliori di economia e di vita si sposteranno perché dove vivono non si potrà letteralmente vivere più letteralmente e guardate che questa cosa qui e tutto ciò sta già accadendo è chiaro che accade in zone del pianeta di cui a noi ci porta molto poco molto poco l'estate scorsa un mio collega mi chiama mi fa una videochiamata da Baghdad dove lui insegna di estate e mi fa guarda la temperatura Stefano la temperatura a luglio al sole dell'anno scorso a Baghdad era 61 gradi ora io non so se di nuovo è strano cosa è 61 gradi 61 gradi vuol dire che se tu con una mano tocchi qualcosa di metallo tiustioni questo vuol dire 61 gradi vuol dire che in breve non sarà più abitabile quella città questa cosa che sta accadendo a Baghdad è già successo a gran parte del Sahel il Sahel negli ultimi 20 anni ha perso più o meno 250 chilometri di profondità come territorio vivibile cioè per 250 chilometri prima si poteva vivere immaginate 250 chilometri il Sahel giusto per per chi non lo dovesse sapere è quella fascia che sta subito sotto al Sahara il Sahara avanza e si mangia questo pezzo questa fascia in cui vivono un sacco di persone beh negli ultimi 25 anni si è mangiato 250 chilometri in cui non si può più vivere questo è quello che sta accadendo già accade anche l'idea che il riscaldamento globale sarà una cosa di cui vedremo un giorno è una stupidaggine li vediamo già a luglio di quest'anno ha fatto tanto caldo ve ne siete accorti e vi siete accorti anche non so se lo sapete ma ormai prendete gli ultimi 5 anni e negli ultimi 5 anni qualunque essi siano trovate i 4 anni più caldi mai misurati le 4 estati più caldi i 4 inverni più caldi perché la temperatura sta aumentando in maniera esponenziale il che vuol dire che nei prossimi anni come chiun qualunque meteorologo di media saggezza vi dirà l'estate che abbiamo vissuto l'anno scorso non è la più calda degli ultimi 40 ma è la più fresca dei prossimi 20 questa questione che passa inaspettata e inascoltata ha delle conseguenze fondamentali a luglio in Italia la mortalità è aumentata a livello nazionale del 28% questo vuol dire dati misurati 28% guardate che il covid non c'entra nulla covid escluso la mortalità in Italia è aumentata a Firenze sono morti il 22% la mortalità è aumentata del 22% a Roma nel 25% e così via che cosa vuol dire perché perché il caldo fa morire le persone è semplicissimo è semplicissimo che cosa dovremmo parlare nei prossimi anni le stime ci dicono cose brutte che non vi racconto perché vi vedo già belli depressi cosa che purtroppo diciamo un tempo a me piaceva quando un tempo andavo parlando delle piante intelligenti che erano tutti contenti erano tutti contenti mi guardavano belle le piante intelligenti siamo così mi piace questo argomento mi ha reso felice poi a un certo punto io ho capito che non potevo parlare solo di piante intelligenti se no raccontavo quello che stava accadendo perché lo trovo proprio un problema etico non raccontare quello che accade è per me impossibile e vedo soltanto facce distunte davanti per cui tendo mi dicono che il genere ho ecoasi allora tendo diciamo a mantenermi leggero cioè cerco di non calcare è chiaro che alcune cose sono di una tale potenza come si fa dire 70% in meno di animali ci sono punto la temperatura di Roma è il 3,6 gradi più alta del 1960 è un dato è inevigente è inequivocabile è già accaduto non è una cosa che accadrà che cosa allora perché non facciamo innanzitutto che dovremmo fare dovremmo fare ridurre questa anidride carbonica è ovvio l'anidride carbonica aumenta e si riscalda il pianeta una specie savia direbbe va bene riduciamola e molto probabilmente questa è un'altra diciamo un'altra distorsione della comunicazione sentiamo spesso parlare di anidride carbonica di copp 21 22 23 24 25 26 si riuniscono parlano riduciamo a carbon neutrality nel 2020 nel 2030 si fa un parlare tale che uno dice beh dai stiamo messi bene se ne stanno occupando la anidride carbonica si sta di sicuramente riduciando non c'è verso e allora sappiate che anche lì c'è una cosa che ognuno dovrebbe veramente la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera dovrebbe prendere il posto del PIL come numero che racconta la nostra possibilità di essere felici nei prossimi anni io è qualche anno che insiste in qualunque occasione in qualunque teatro in qualunque luogo nel dire che ciascuno di noi ogni giorno dovrebbe vedere dovrebbe digitare su google CO2 oggi CO2 today e vedere quanto sta quant'è e i giornali dovrebbero metterla lì di lato in alto a destra dove mettono nuvoloso temperatura 15 gradi accanto cosa gli costerebbe mettere CO2 oggi 419,4 ppm è un numero intanto le persone cominciano a guardarlo cominciano a capire che c'è un numero che è importante ogni giovedì io faccio una trasmissione su radio 1 dove da quando ho iniziato ho imposto dice io vengo a fare questa trasmissione se inizio la trasmissione dicendo quanta nitide carbonica c'è oggi nell'atmosfera e immaginavo dico beh qualcun altro ma qualche fesso dirà ma sai che lo dico anch'io lo metto anch'io sulla mia pagina facebook sul mio instagram sul mio tiktok sulla parete sulla parete della mia aula davanti alla parrocchia da qualche parte lo metto anch'io e invece no nessuno nessuno che che lo fa perché se qualcuno lo facesse e se si iniziasse a vedere come aumenta in continuazione questo numero nessuno poi si meraviglia e poi guarda e si dice guarda che dal 90 al 2000 la nitide carbonica è aumentata di una parte per milione ogni anno dal 2000 al 2010 è aumentata di 1,5 parti per milione ogni anno dal 2010 al 2020 di 2 parti per milione ogni anno dal 2020 al 2023 nonostante ci sia stati due anni di covid dentro si sta aumentando intorno ai 2,5 parti per milione per anno e uno ci pensa dice ma come siamo tutti a fare le cop siamo tutti quanti su questa carbon neutrality non si sente parlare d'altro siamo tutti con le macchine elettriche ible plug in e l'anidride carbonica aumenta ogni anno di più di quanto era aumentata l'anno precedente questo è è un dato di nuovo io vi genererò ecoansia però questo è un numero non è un modello non è niente è quello che uno può vedere chiunque di vuoi lo può vedere è un numero che si misura e allora cosa arrivo perché tutto questo è importante ed è fondamentale in relazione alle città arriviamo nel cuore del problema perché c'è una percezione sbagliata di nuovo del problema una distorsione della visione quando parliamo di ambiente quando parliamo di tutti questi temi di cui abbiamo chiacchierato finora abbiamo un'idea che tutto questo dipenda dalla nostra capacità di conservare ad esempio la natura di proteggere le foreste di proteggere gli oceani gli acciai le alpi le aquile i panda eccetera è un'idea associamo queste due cose non associamo invece mai il fatto che questa l'ambiente la questione ambientale la si risolve in una sola maniera cambiando la nostra idea delle città e guardate che questa è una questione anche di nuovo indubitabile perché indubitabile ve lo spiego le città rappresentano l'1,6% della superficie del pianeta quindi l'1,6% della superficie abitabile meglio la superficie abitabile del pianeta è formato da città ed è e le città questo è un altro punto che ci sfugge sono il luogo in cui vivono gli uomini e anche questa è una rivoluzione è una rivoluzione di cui non ci si sta rendendo conto nel 1970 di nuovo questo famoso anno ritorna tante volte nel 1970 il 30% della popolazione mondiale viveva in città e il 70% viveva in ambiente urale nei 2070 cioè quando saranno passati 100 anni a livello globale questa proporzione sarà completamente capovolta 70% delle persone vivranno in città e 30% in ambiente urale ma già oggi in Europa in Italia il 72% delle persone vive in città in Germania il 76% Spagna Inghilterra e Francia ben oltre l'80% America Nord e Sud è oltre l'80% della popolazione vive in città quindi è già un fenomeno irreversibile già oggi la stragrande maggioranza della popolazione vive nelle città e questo è un cambiamento epocale epocale di nuovo perché è avvenuto in un periodo di tempo così breve e cambia le nostre abitudini in maniera straordinaria cioè l'uomo che vive in città non è uguale all'uomo che vive in un ambiente urale è una rivoluzione questa come quella dell'uomo agricolo noi siamo diventati uomini urbani uomini e donne urbane questo è in un tempo ridottissimo e perché questo è accaduto perché la città è bene dirlo subito è il luogo più efficiente in assoluto in cui grandi quantità di uomini e donne possono vivere insieme anche in termini ambientali pensate a che cosa richiederebbe il riscaldamento cosa richiede il riscaldamento di un di un di un'abitazione singola di dieci abitazioni singole e che cosa richiede il riscaldamento di un condominio dove ci sono dieci dieci appartamenti è molto diverso pensate l'efficienza aumenta in maniera esponenziale per qualunque parametro vi vogliete prendere in esame la cultura i trasporti pensate cosa vuol dire provvedere dei trasporti pubblici o dei trasporti efficienti ambientalmente sostenibili per abitazioni sparse oppure per una città pensate la sanità comunque l'università qualunque cosa è per questo che viviamo in città e viviamo in città anche per un altro motivo che non è secondario l'urbanizzazione di un paese è il parametro che è più strettamente legato di ogni altro all'aumento della ricchezza di quel paese le Nazioni Unite una vicina di anni fa fecero un meraviglioso studio in cui dimostrava che l'aumento di urbanizzazione in 160 paesi il 4% il 4% di urbanizzazione in più corrispondeva ad un aumento del PIL del 15% e questo è il motivo per cui tutti andiamo a vivere in città ed è irreversibile questa cosa il fatto che tutti viviamo in città però come dire rende le città qualche cosa di nuovo sono come mi dicevo il luogo su cui noi dobbiamo agire è soltanto l'1,6% della superficie del pianeta ma questo 1,6% produce l'85% dell'anilide carbonica cioè l'85% dell'anilide carbonica è prodotto in città l'80% dei rifiuti del pianeta dell'inquinamento è prodotto in città dalle città l'80% delle risorse del pianeta sono consumate dalle città e questo è un altro punto importante ci sono molte visioni sia fantascientifiche sia anche di famosi urbanisti che hanno immaginato diciamo uno studio in cui la terra sarebbe diventata una grande metropoli un'unica grande metropoli che poi è l'idea di Asimov tanto per gli appassionati di fantascienza come me in cui diventa un pianeta città il pianeta città è un controsenso proprio è una cosa impossibile anche da immaginare perché? perché possa esistere una città abbiamo bisogno di una sconfinata superficie che produca le risorse e di puri ciò che la città produce si chiama impronta ecologica la si può applicare a una persona la si può applicare a una società a una famiglia a una città e allora se guardate cosa è l'impronta ecologica? l'impronta ecologica è una misura in hectare una misura di superficie di terreno è la superficie di terreno che serve per esempio a me la mia impronta ecologica essendo un italiano medio è intorno ai 4 ettari e qualche cosa che vuol dire? vuol dire che io per sopravvivere ho necessità di 4 ettari che producono tutte le risorse che io produco e ho bisogno di 4 ettari per depurare tutte le schifezze che produco questa è l'impronta ecologica ve la sto un po' semplificando ma a grandi linee è questa l'impronta ecologica di una città come Londra e ora andiamo sulla parte divertente è superiore alla superficie dell'intera Gran Bretagna il che vuol dire che perché esista Londra non basta l'intera Gran Bretagna e questo non è molto diverso da quello che già vediamo per Berlino Roma Milano Ascoli in proporzione non cambia una città per vivere ha necessità di un'enorme estensione che provveda a questa città tutto ciò è una cosa anche le città anche i borghetti medievali avevano fuori i campi e tutto quanto che doveva servire alla vita della città è esattamente lo stesso concetto moltiplicato diciamo per un esponente N il che vuol dire che questa idea che le città potranno proliferare indisturbate ingrandirsi a dismisura fin quando non si sa è un'idea che inerentemente debole non potrà essere è proprio impossibile fisicamente per questo che è importante che i fisici si interessino di studi legati alla città è impossibile e soprattutto è fondamentale immaginare delle città diverse questo è un punto quindi noi non possiamo vivere in altra maniera cioè il numero dei vantaggi che la città dà all'umanità sono tali che non non ne faremo mai a meno bisogna essere realistici è impossibile quando per esempio tutte quelle tutte quelle cose che ogni tanto si sentono torniamo ad abitare in campagna con lo smart working no non funzionano ma non funzionano ma ve li immaginate che ne so dieci milioni di persone che che popolano Tokyo no c'ha 50 milioni di persone ma immaginate dieci milioni un quarto prendono e si sparpagliano per la campagna giapponese è finito il Giappone dove va è finito ma la stessa cosa accade in Italia la stessa cosa accade in Inghilterra dappertutto è così allora queste cose diciamo hanno un interesse marginale o semplicemente di idea automica il nostro futuro è nelle città perché le città hanno l'efficienza per persona più alta che noi possiamo immaginare su qualunque su qualunque per qualunque parametro voi vogliete prendere e allora che dobbiamo fare noi dobbiamo immaginare delle città completamente diverse dalle città che abbiamo immaginato e qui abbiamo un problema di ordine culturale la nostra idea della città è una città completamente costruita impermeabile lo dico qui in uno degli esempi diciamo del mondo della città ideale quindi me ne scuso subito però se andate se fate veramente qualche chilometro andate nella Pinacoteca di Urbino trovate un magnifico dipinto che si chiede la città ideale ce ne sono ce ne sono diversi di queste città ideali uno è a Urbino uno è a Bond un altro è negli Stati Uniti non vi ricordo a Boston se guardate queste città ideali sono tutti quanti prodotti da artisti più o meno ignoti del rinascimento italiano se le guardate queste città ideali hanno tutta una cosa il comune provate a guardarle non vi trovate un filo d'erba niente sono un'idea diciamo la città ideale quella di Urbino per esempio che è la più famosa di tutte è una visione prospettica di una piazza simmetrica con una chiesa in fondo due pozzi ottagonali e una sfilata di palazzi da una parte e dall'altra non c'è neanche una persona che cammina non c'è niente ci sono in lontananza sui ultimi palazzi sembra di intravedere come una specie di vaso appeso a un balcone ma sembra per il resto diciamo l'elemento vivo dalla città ideale non esiste e questa cosa non è non sta sotto sta in tutte queste rappresentazioni delle città ideali ora voi potreste dire vabbè sono rappresentazioni ideali ma quell'ideale è importante perché se la mia città ideale è molto diversa da quella la mia città ideale è una città in cui invece l'architettura quella diciamo impermeabile materica uso dei termini carico gli architetti eh dalla ormai questa frequentazione mi arrivano mi arrivano dei mi arrivano delle parole alcune le alcune le le compatto eh aspramente e ci siete molti architetti qui dentro immagino fatemi un piacere uno solo queste mi rendete felice la parola piantumazione non esiste non si le piante non si piantumano si piantano e se piantumazione di e se allora l'altro giorno ehm ho trovato un meraviglioso filmato dell'istituto luce del 1963 in cui parlava della festa dell'albero e diceva che migliaia ricordano che nel 1963 c'era quel tipo di voce un po' incrostata migliaia di ragazzi si sono portati intorno nelle città e hanno e hanno piantato migliaia di alberi la piantagione di queste migliaia di alberi ci accompagnerà e che meraviglia piantagione che quando uno dice ma la piantagione è quella della canna da zucchero no la piantagione è l'atto del piantare l'atto del piantare è piantagione non piantumazione quindi io lo so che è una battaglia di quelle diciamo perse perché proprio piantumazione ormai è entrato per tanti anni io potevo dire guardi che non c'è nel vocabolario perché ancora resistevano i vocabolari poi purtroppo è entrato però voglio dire io continuo a pensare che piantagione sia più bello e siccome siete architetti e la questione estetica vi dovrebbe interessare il bello di piantagione è inevitabile cioè salta gli occhi e c'è qualche cosa di ancora più importante secondo me in questo perché poi ci ho studiato negli anni ho detto ma perché mi sta così sulle palle la parola piantumazione come mai non lo sopporto e credo che sia perché piantumazione ha come una specie di nuance tecnica cioè è qualche cosa legata alla tecnologia tipo piantumiamo un albero è tipo sembra facciamo un pilastro mi dà questa invece invece la piantagione è una cosa più naturale quindi va bene quindi sarebbe una città piantata piena completamente coperta di verde in cui l'architettura diciamo i materiali dell'architettura si vedono e si intravedono è una città permeabile permeabile nel senso proprio permeabile permette il passaggio dei gas dell'acqua e il problema nel riscaldamento globale c'è un problema enorme che è quello delle isole di colore urbano che conoscete benissimo le città sono più calde rispetto alle aree circostanti di quanto beh si può arrivare anche a 5 gradi di più è una cosa che conosciamo anche questo lo dobbiamo a un farmacista inglese Iliott nel 1840 questo scrive un libro che si chiama Il clima di Londra in cui dice mi sono accorto di una cosa che la temperatura lo stesso giorno fuori da Londra e dentro la Londra è molto diversa dentro Londra è 2,6 gradi più calda di giorno particolarmente e 3,1 di notte dice una cosa molto importante interessante già da allora non solo l'isola di calore urbana esiste ma è esagerbata durante la notte e durante la notte la città è molto più calda rispetto alla campagna perché accade questo? per una serie enorme di motivi uno è il fatto essenzialmente che la città è impermeabile cioè non potendo traspirare non potendo passare l'acqua dal suolo e dalle piante nell'aria non può abbassare la temperatura perché la traspirazione l'evaporazione è un processo endotermico cioè assorbe calore è lo stesso processo identico che noi usiamo nei condizionatori per cui una città che fosse coperta di piante che fosse impermeabile sarebbe una città molto più fresca è molto più fresca vorrebbe dire innanzitutto ridurre quel 22 24 28% di mortalità in più durante l'estate vorrebbe dire usare di meno i condizionatori vorrebbe dire risparmiare lì di carbone poi le piante dovrebbero essere utilizzate dappertutto e questo io diciamo inizio un po' di idee di tipo che vengono normalmente ritenute utopiche che io però ritengo siano semplicemente pratiche e che non vengono attuate semplicemente per un problema di nuovo di idea culturale di che cos'è la città per noi nel 2023 le città una città moderna non dovrebbe avere traffico privato una città come Ascoli non dovrebbe avere automobili vedi la attraversate da una parte all'altra piedi quando volete poi fate diciamo usate dei sistemi che rendono il tutto pubblico ci sono Firenze io vengo da Firenze una città che ha un traffico folle non dovrebbe avere un traffico ma non dovrebbe averlo nessuna città guardate che città a Parigi a Parigi sono ma da da tanti anni io ho tantissimi amici a Parigi che non posseggono macchine ma non le posseggono non perché sono dei ecologisti ambientalisti insani non lo posseggono perché perché è sconveniente per loro nel senso che ci sono dei trasporti pubblici talmente efficienti che ti permettono di spostarti da una parte all'altra con semplicità mentre se prendi la macchina a Parigi è un incubo perché negli anni per scoraggiare l'uso delle macchine che cosa è successo? hanno ridotto sempre di più le carregiate a favore di biciclette monopattini persone a piedi cavalli quello che volete e hanno ridotto sempre di più la velocità per cui di fatto uno dice ma perché mi devo prendere la macchina per andare a 20 all'ora con queste carregiate minuscole non arrivo mai e nessuno quindi prende la macchina ora uno di nuovo potreste pensare ma dovremmo aspettare di avere chissà quali meravigliosi trasporti pubblici perché questa è la critica che sento sempre no sì va bene è vero ma fino a quando non avremo dei trasporti pubblici all'altezza non possiamo permetterci una cosa del genere io invece contesto questa cosa non è vero noi avremo i trasporti pubblici adeguati dopo che avremo tolto le strade cioè che cosa intendo tanto facciamo un passo indietro nel 1971 oggi la ZTL il centro storico con il traffico limitato è una cosa che non ci fa più assolutamente nessuna nessuna senso di 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 stranezza è una cosa normale dappertutto bene nel 1971 il la ZTL non esisteva nel 1971 chiunque in qualunque luogo del mondo camminava con la macchina dove gli pareva era normalissimo un sindaco un ragazzino un architetto di una città del Brasile che si chiama Curitiba una città di due milioni di abitanti non immaginatevi un piccolo borgo questo ragazzino un giovane architetto di 30 anni che si chiamava Lerner un giorno dopo un due mesi dopo essere stato eletto sindaco decide di chiudere completamente al traffico il centro storico di Curitiba un centro storico grande enorme con tanti tanti commercianti tanti esercizi commerciali tanta attività sa che se lo fa durante la settimana la magistratura glielo impedisce gli dice no questa cosa che stai dicendo non è possibile allora fa una specie di azione notturna il venerdì sera aveva organizzato tante squadre di operai senza che si dicesse nulla la notte arrivano bloccano tutte le strade le le gli fanno le muche nelle strade e ci mettono delle aiuole sa aveva guardate che è una questione interessante sa era molto molto intelligente questo architetto Lerner sa che diceva per i prossimi lo aveva detto tutti i suoi consiglieri tutti i suoi amici per i prossimi sei mesi ci faranno la guerra toglieranno queste barriere e noi dovremo rimetterle ogni volta per cui c'ha queste squadre questi arrivavano gli sradicavano le piante gli rimettevano le cose e lui ritornava ogni sede le rimetteva proprio senza pensarci beh che cosa accade dopo sei mesi dopo una guerra enorme di attriti di 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 opposizioni totale accade dopo sei mesi che tutti cominciano ad essere contenti di avere il centro storico chiuso i commercianti si accorgono di quella cosa di cui si sono poi accorti sempre nella storia delle ZDL di tutto il pianeta che se chiudi il centro storico guadagnano di più è sempre accaduto così dappertutto e è già diciamo ed è una bella è un bel volano questo se i commercianti cominciano ad essere contenti hai un un bel appoggio beh 1971 Curitiba è la prima ZDL nel giro di pochi anni questa stessa iniziativa è presa da tantissime altre città in giro per il mondo che cosa dovremmo fare oggi? dovremmo coprire le nostre città di alberi quando vengono da me e mi chiedono dove le mettiamo questi alberi e non c'è posto nelle città per mettere alberi è finito perché le città sono impermeabili e allora mi sono chiesto ma come è fatta sta città? che cos'è che prende tutto sto posto? un posto enorme uno spazio enorme nelle nostre città è preso dalle strade strade che sono studiate per un percora per per le macchine per un traffico per un traffico personale autonomo privato allora a Firenze ad esempio così come tantissime città italiane è completamente circondata da dei viali è proprio un anello che circonda tutto il centro storico fu costruito ai tempi di di Firenze capitale in modo da poter garantire una circolazione adeguata diciamo a una capitale ed è un affare largo sono quattro e quattro corsie otto corsie che circondano quindi immaginatevi quant'è una corsia architetti non ho idea quanto sia una corsia ma sarà quanto? tre metri quindi tre per otto sono venticinque metri più immaginatevi un anello un ring è largo dai venticinque metri in su che circonda tutta la città che spazio è uno spazio enorme ma allora io sono andato dal mio sindaco il quale mi ha tirato ovviamente non mi ha neanche voluto ascoltare sono scemo però ho detto una cosa legge chiudiamo i viali lui voleva sapere dove le mettiamo le piante sui viali fa come sui viali dico sì dico tu immagina se chiudiamo i viali e io però voglio dire penso che il mio sindaco non sia fuoco perché anche dal punto di vista di un politico se io fossi sindaco di Firenze cioè farei di tutto per fare una cosa del genere diventerei il sindaco più famoso del pianeta istantaneamente ma ve l'immaginate Firenze circondata da 25 da un parco largo 25 metri con tutte le piazze cioè cambierebbe l'aspetto della città tutti verrebbero a vedere questa meraviglia e qual è il motivo per cui non si fa e come circolano le macchie io ho detto tanto lo chiamo e poi troviamo come quando fate i lavori quando fate i lavori che fate? bloccate delle parti della città enormi e non è che vi preoccupate di dire dove vanno ora le persone con la macchina bloccate perché dovevi fare i lavori passano 8 mesi 9 mesi la tramvia siamo stati bloccati per 3 anni 5 anni e non siamo andati non andavamo più è la stessa cosa intanto blocca costruisci tutto quanto e resisti e resisti mostra i vantaggi di quello che stai facendo e tutto cambierà io sono certo questo è un reso non pensiate che sia una io non credo che sia una stupidaccia non lo so questo non lo so non lo so dire però vede il sindaco è andato via per tempo ma infatti ma infatti vede io l'ho proposto al mio sindaco che è al secondo mandato e quindi non si può non può essere di eletto e questa è una classica cosa da secondo mandato al secondo mandato la puoi fare all'inizio del secondo mandato la devi fare all'inizio del secondo mandato io credo io credo che se la fai all'inizio del secondo mandato e quindi resisti poi per tre anni se potessero ti faranno ti faranno le statue non solo ti rieligeranno perché su un lungo periodo su un periodo un pochino più lungo il numero e la quantità l'enormità dei vantaggi di una cosa del genere sarebbe di una tale plateale evidenza che nessuno potrebbe più negarla così come oggi più nessuno potrebbe pensare di aprire al traffico indiscriminato i nostri centri storici è una cosa talmente folle eppure pensate uno del paese 50 anni fa era normale è esattamente la stessa cosa questo è una una delle cose che avrebbero fatte poi le piante dovrebbero stare dovrebbero entrare dappertutto nella progettazione fin dall'inizio vi esorto a non usarle alla fine cioè la progettazione deve prevedere un enorme non soltanto le piante quelle prodotte che richiedono i regolamenti comunali tot piante per tot metri quadri le compensazioni eccetera no metterne enormi quantità fuori e dentro e dentro io sto una delle uno diciamo delle mi imbarazza anche un po' raccontarvi questa cosa però perché diciamo riguarda io ho un un rapporto di grande amicizia con Renzo Bianco di grande amicizia Renzo è un è l'architetto straordinario che è su questo diciamo non devo dire assolutamente nulla ma non è che avesse una particolare sensibilità verso le piante e la vegetazione prima di conoscere me dopodiché siccome siamo diventati molto amici io l'ho come un martello come un martello come un martello ora lui non non riesce a progettare se non con le piante allora stia stia dico così perché me lo ha detto lui mi ha detto puoi dire stiamo facendo perché io gli ho detto come devo dire Renzo perché mi sembra brutto dire stiamo facendo collaboro non devi dire stiamo facendo stiamo facendo insieme il grande ospedale di Parigi che è un progetto che ha vinto Renzo Bianco il grande ospedale grande ospedale di Parigi è una cosa enorme si chiama grande ospedale perché è davvero grande è un classico ospedale post covid cioè i francesi si sono spaventati e poi se ne arriva un altro dove li mettiamo e quindi fanno questo enorme ospedale e Renzo ha vinto la gara per la progettazione beh com'è disegnato questo ospedale è una cosa straordinaria dal mio punto di vista abbiamo chiacchierato tutto il tempo e ho detto guarda in un ospedale qualunque stanza non può chiedare sul verde ci devono essere piante dappertutto perché c'è una letteratura scientifica infinita che ci dice che cosa accade alla sola visione del piede verde alla sola visione guardate il primo lavoro è su Nature 1984 la visione delle piante dal letto di ospedale diminuisce riduce la degenza del 30% a parte del 40% il consumo degli analgesici rende le persone molto più contente nelle analgesi c'è una letteratura infinita allora ho detto beh devi immaginare una cosa per cui da dovunque tu sia vedi piante perché e poi quante possibili le mettiamo anche dentro però dentro le possiamo mettere soltanto in alcuni posti perché hanno la maniera della sterilità che è una stupidaggine le piante sono perché per quale motivo possono entrare le persone e non le piante una follia io capisco ci saranno dei reparti particolari che vanno mantenuti ad alta sterilità ma ortopedia per quale motivo ortopedia non deve avere le piante al proprio interno è una cosa al di fuori di ogni comprensione per me comunque ma la cosa tra qui l'idea bellissima di Renzo è quella che praticamente ha disegnato questo ospedale in questa maniera innanzitutto immagino un parallelepipedo un parallelepipedo bugato per cui ci sono tante corti e tutte queste corti sono delle foreste e tutto il tento cioè l'intero edificio il tento è fatto in questa maniera c'è il parallelepipedo ed è coperto cioè le persone salgono sul tento proprio ci arrivano con una strada come se fosse una passeggiata una strada grande e tutto il tetto è un grande parco quindi c'hai questo il tetto tutta la parte di anche non so è sbagliato chiamarlo tutto tutta la parte superiore dell'ospedale è un grandissimo parco pubblico cioè un parco dove ci sono con le panchine con i giochi dei bambini dove vanno le persone come a un parco in mezzo ci sono questi buchi che sono delle altre foreste che escono fuori chi sta lì dentro è circondato davvero c'era c'era più il tempo è Renzo e va bene ma che c'era bisogno di pensarci tantissimo chissà in ognuno dei vostri progetti quante piante potrete dappertutto con incredibili vantaggi voi progettate per la salute e la qualità della vita delle persone che ci abitano dentro non perché siano belli se sono belli tanto meglio tanto meglio però se una cosa è bella ma non è buona cioè bisognerebbe tornare a un po' a quel bello e buono greco bello è buono se una cosa è bella ma non è buona va bene no scusate grazie se una cosa è bella ma non è buona non serve e se una cosa è buona è quasi sempre bella e mettere piante mettere piante cambia talmente tanto cioè il numero di fattori sociali vi faccio un esempio le scuole giusto per farvi capire di cosa sto parlando le scuole non esiste una scuola sul pianeta terra in cui ci siano piante nelle aule o intorno ma neanche nella magnifica Norvegia in quei posti lì che fanno delle cose straordinarie nulla si parte dall'asilo si arriva al dottorato e tu sei stato 30 anni in luoghi in cui non c'è un filo terra come mai perché c'è un motivo no non c'è un motivo e 25 anni fa io feci il primo studio in una scuola elementare sugli effetti della vegetazione della presenza di piante nelle aule sulla capacità di attenzione dei bambini con risultati realmente stupefacenti stupefacenti con la sola presenza di piante la capacità di attenzione nel risolvere dei test che non erano culturali ma solo di attenzione si dimezzava l'ultimo poi c'è stata una catena ci sono state migliaia di lavori scientifici di questo tipo vi racconto uno degli ultimi su una scuola appunto norvegese che è stata per in cui metà delle aule sono state coperte con piante e con visione anche su piante sull'esterno e metà sono rimaste così come erano ed è stato seguito la carriera di degli studenti per due anni che cos'è accaduto? bene gli studenti innanzitutto la carriera proprio i voti i voti sono aumentati del 30% la socialità i vervegia hanno un problema enorme di bullismo molto forte come in molti paesi del nord Europa sta diventando importante anche da noi il bullismo è completamente scomparso semplicemente con la presenza delle piante e poi il più eclatante dei risultati quello diciamo che è indiscutibile la riduzione dei giorni di malattia del 42% cioè con la sola presenza delle piante i ragazzi riducevano del 42% i giorni di malattia allora quale altro quale altro singolo fattore mi viene in mente che con una spesa così irrisoria può portare a questo enorme numero di vantaggi e io non vi sto parlando di tutti i vantaggi che riguardano poi l'ambiente di cui abbiamo parlato all'inizio che era il problema principale beh insomma grazie mille e le chiedete tardi a tutti i nostri parlanti se ci sono domande io sono dispostissimo a chiacchierare però delle cose voglio dirle allora in primis ringraziare le colleghe che hanno invitato il professor Stefano Mancuso al quale sono molto grato per questa sua produzione per più 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 per questa sua visione che fa bene comunicarla costantemente anche ai giovani in modo particolare e poi però su questo tornerò ringrazio il comune perché ci ospita e noi lavoriamo con il comune su molte missioni anche importanti per la città dove il vero è importante come le diceva il sindaco non siamo arrivati a chiudere le strade a mettere tutti gli altri però delle cose le stiamo facendo ora io le dico solo due o tre cose molto rapide la prima è evidente che il professor Mancuso è un visionario visionario attenzione vuol dire è un pioniere nello sguardo di guardare avanti non è un visionario diverse accezioni ma come ci sono stati importanti visionari nel mondo e nello studio anche delle città nello studio del futuro del pianeta io ricordo essendo un po' avanti negli anni lo ricordo perché l'abbiamo anche studiato il limite dello sviluppo di Aurelio Pecce anche di Roma tutti parlavano di Aurelio Pecce sul gruppo come uccelli del Maraguri purtroppo invece delle cose si sono vengono poi voglio dire del rapporto Brunfland certo il concetto di sviluppo sostenibile ora io e qui sto pensando a questo ma chi era Pecce e chi era Brunfland Pecce era un imprenditore non so se lo sapete un imprenditore che lavorava per la fine Brunfland era un medico che c'entrano questi nell'andare a studiare ecco e che cosa è mancato secondo me in questa riflessione perché stiamo parlando dal 72 all'oggi chiamo Stefano siamo colleghi dell'unica H20 è mancato secondo me una questione di fondo cioè non si è riuscito a tradurre strategie e visioni che comunque ci sono state più o meno chiare più o meno combattute andando avanti si sono consolidate la Next Generation EU nasce anche da queste visioni la transizione verde digitale di cui ci riempiamo la bocca nasce da queste decisioni che cosa è mancato secondo me è mancato e lo chiudo a te però se è vero la capacità di tradurre visioni in azioni concrete e procettuali perché la visione è una visione appunto sono dei visionari capaci prima di altri di intuire delle cose e lo abbiamo e lo raccontato ora da queste visioni nel momento in cui peraltro sono condivise perché attenzione Peccei nel 72 era considerato uccello del malaugurio e scalzato però dobbiamo anche dire che oramai è molto più consolidato questo pensiero quindi sono sempre di più i colleghi politici visionari che parlano di questo però che cosa è mancato la capacità di tradurlo in azioni concrete ecco allora su questo su questo io ti chiedo uno sforzo il professor Mancusi o Stepan ti chiedo uno sforzo perché noi manca che io lavoro da 33 anni io sono urbanista ma che ha lavorato alla pianificazione dei parchi a Reprotette quindi lavoro da 30 anni con botanici ecologi ecco il botanico l'ecologo lo scienziato ha sempre svolto un ruolo all'interno delle torri a burne della ricerca come te non ho visti poco capito cioè in realtà di queste persone che escono si mettono in gioco dicono delle cose rischiando anche di essere aggrediti dai loro stessi colleghi dello stesso settore escepinare perché parla di questo ma questo è un botanico è un ecologo perché non sta ragionando sulle classificazioni di litne o quant'altro no allora ecco questo quindi evidente che questo rischio l'hai corso il coraggio del pioniere ti ha fatto imboccare una strada e noi siamo ti abbiamo accolto a braccia aperte però ora che cosa manca manca quel botanico quell'ecologo che affianchi quotidianamente il progettista urbano che compito il nostro apperzietto e che lo aiuti no a gestire lo spazio aperto il verde i tipi di verde e quant'altro questo è un tema è un tema guarda io sto chiudo eh sono stato consulente del governo nel DNR e il DNC quindi il tema del 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 rimboschimento c'è c'è anche un fondo specifico la verità è che non si sa lontanamente come farlo io ho samminato 912 progetti per il centro Italia e ti assicuro che sono emerse tante cose che sono veramente banali e veramente cose buttate via cioè piantare l'albero è piantare l'albero ok però buttate via perché buttate via chiudo veramente perché è evidente che piantare l'albero va sempre bene va bene però non può essere che io pianto l'albero solo in virtù di un equilibrio finale globale del pianeta che comunque è molto importante ma non regge sempre devo avere la cognizione del ruolo che ha quell'albero e quel verde nella qualità oggi della vita in quel pezzo di città e questo non è per niente scontato almeno dai tuoi colleghi che abbiamo più volte investigato e chiamato al dibattito che ci siano argomentazioni guarda sono perfettamente d'accordo con te il problema è proprio questo cioè il problema è come affrontare questi problemi allora come affrontare soprattutto la progettazione urbanistica io credo che oggi sia fondamentale in qualunque seria progettazione urbanistica un approccio veramente multidisciplinare molto più multidisciplinare di quanto è avvenuto fino ad oggi perché l'urbanista ha una visione particolare ma per esempio non ha gli strumenti così come hanno gli strumenti urbanistiche l'urbanista non ha gli strumenti diciamo per valutare gli impatti ambientali cioè ciò che quel famoso albero che dici tu apporta alla città e ti hai ragione che purtroppo non c'è e proprio manca una qualità particolare di persone sia tra gli urbanisti che tra i botanici che quella qualità dell'essere aperti di mente aperta alle idee degli altri questa è una questione molto difficile e noi dovremmo probabilmente una delle prime cose che dovremmo fare è proprio allevare crescere una nuova generazione di studiosi che sono un pochettino più aperti alle idee degli altri e perché so benissimo che per esempio tu dici giustamente hai guardato più di 900 progetti e molti erano delle stupidaggini enormi è vero perché quando tu metti un discolo albero quel discolo albero oltre a fare quella cosa che dici in punto tra 30 anni avrà avvisato 500 kg di anidride carbonica cosa che è buona non fa solo quello è diciamo l'ultima delle cose che fa quello che fa prima è agisce sulla vita sociale delle persone agisce sulla loro salute agisce sulla sulla come si chiama il microclima l'isola di calore e tutte queste cose qui andrebbero andrebbero non solo valutate ma misurate cioè si potrebbero misurare si potrebbe dire guarda che il singolo albero lì ti porterà una quantificando questo 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 e quest'altro cosa che purtroppo non viene fatta e Roberta che è accanto di fare lo so lo so lo so lo so è molto no è difficilissima è difficilissima poi noi in Italia abbiamo sta cosa delle delle come si chiamano le classi di concorso i settori i settori disciplinari che sono una iattura una follia sono diciamo è un discorso questa è una cosa che interessa gli univi gli accademici però se tu ti devi occupare se io per esempio il mio settore disciplinare è agro03 armonicoltura io dovrei studiare solo alberi cioè ma nel senso intendo dire che se io faccio un espermice io faccio io ho fatto centinaia di lavori che ne so per esempio con i fagioli io con mais lavori scientifici in laboratorio quando vado a fare quando vado ai concorsi anche se li ho pubblicati su Nature non valgono e quindi se io faccio dei lavori insieme agli architetti o agli urbanisti quelli non valgono e siccome però è questa la sfida è questa è questa esattamente persone che lavorano su questo ce ne hai due di fronte per esempio sono demotivate lei non mi ha diventato ordinario non mi frega più niente lei deve far carriera e ci pensa no no che dice è vero che ci pensa ma è vero che ci pensa non ci pensa è così io ho camminato non so che è sempre strano però guardate guardate che questa cosa queste gabbie che è una cosa che esiste soltanto da noi in qualunque posto del mondo non esiste che per diventare professore devi stare in una gabbia anzi anzi più sei capace di mostrare la tua ampienza di conoscenze la tua possibilità di lavorare con gli altri più sei premiato noi abbiamo questa follia perché non è che abbiamo noi ce l'abbiamo per caso ce l'abbiamo perché così ognuno ognuno di queste in queste piccole classi di concorso ha il suo zatto che può fare quello che vuole lì dentro però no è una cosa diciamo che nasce da questo però questo interessa diciamo a un numero limitato di persone bisogna creare una nuova generazione di persone che abbia la capacità di lavorare insieme beyond the border sì esatto e che pensi un pochettino oltre le barriere della propria disciplina davvero altrimenti non vedo una possibilità alcuna il lavoro dell'urbanista è un lavoro di una tale complessità una città se un pianeta è un essere vivente beh una città è la stessa cosa la città è una cosa di una tale complessità i fisici che studiano i sistemi complessi sono fondamentali in un gruppo di urbanistica moderna infatti ci sono presi ecco ecco secondo me deve sentire la professoressa che le può quantificare esattamente i benefici in erro e anche diciamo fisici di qualunque albero di ciascun albero che viene messo in qualunque luogo della città perché questo è un punto fondamentale cioè se noi possiamo quantificare cioè rendere evidente a tutti dall'amministratore al cittadino comune il fatto che un singolo altro provvede produce per la cittadinanza dei benefici che ne so fissa una quantità di alberi carboni che rimuove una certa quantità di inquinanti raffresca di una certa quantità l'ambiente migliora la socialità di una zona tutte cose che si possono misurare e poi allora è difficile contestare l'utilità di un albero poi questo da una parte dall'altra parte si metta l'anima in pace continui a piantare alberi al meglio che può perché è vero che tutti quanti diciamo che bello bello mettiamo gli alberi eccetera per esempio a Firenze io ho un'esperienza atroce in alcuni posti ho detto vabbè mettiamo gli alberi in questi sono anch'io agisco diciamo un po' da consigliere delle amministrazioni da questo punto di vista quindi sono proprio l'albolicontore pazzo e quindi viene fatto prendiamo questa strada questa strada rimuoviamo togliamo un parcheggio un posto macchina ogni tre e al posto di questo ci mettiamo un albero per l'amor di Dio i drammi i drammi un due gli alberi ma che alberi mettete sporca gli alberi che sporcano sono una cosa che mi fa veramente mi manda fuori di testa vogliono gli alberi ma li vogliono che non sporcano che non perdano le foglie che hanno i fiori che non sono allergenici che non puzzano ma allora mettetevi una cosa di plastica e basta e siete più contenti gli alberi sono esseri viventi ma i cani però li avete puzzano cavolo se puzzano producono escrementi poi fanno di tutto eppure ve li tenete i cani allora perché l'albero non può perdere le foglie perché non lo so quindi ci sono per questo le dicevo si metta l'animo in pace e pensi che quello che fa è giusto e vada avanti tra piantumare e piantumazione e piantazione cioè messa a dimora si no messa a dimora mi piace mi piace moltissimo per me va bene messa a dimora cambia il capitolato è un bel è un bel mi piace molto allora questo mi dà un'occasione importante non non i boschi verticali il bosco verticale è insostenibile perché diciamo ci sono una serie bisogna però bisogna lavorare bisogna studiare e qui questo per esempio è un classico esempio in cui botanici e architetti e ingegneri dovrebbero lavorare insieme per inventare proprio delle tecniche nuove che possono permettere la stessa lo stesso risultato diciamo cioè coprire gli edifici con le piante però si le piante rapicanti in parte funzionano è verissimo però rovinano le pareti insomma ci sono una serie di motivi però lavorare insieme per coprire per coprire gli edifici con le piante allora ne avremmo dei risultati straordinari perché per esempio semplicemente le piante rapicanti attraverso la traspirazione riducono la temperatura moltissima altro che cappotto altro che cappotto la domanda il fatto di spingere il rutto del legname del legno delle urtizie non è un danno che potremmo che viene nell'abbattimento di tutte le foreste allora un'altra la ricrazio perché questa è una domanda molto intelligente molto interessante perché anche qui abbiamo allora innanzitutto quando noi parliamo di legno da costruzione è il legno che proviene da foreste che sono state prodotte per quello cioè è una coltivazione cioè è come quando prendiamo il mais o il grano è una coltivazione non è una foresta di grano quindi quelle sono foresti diabeti foreste che servono qui c'è in cui gli alberi sono tagliati programmati se ne taglia un certo numero ogni anno e li si rimette in modo che rimanga sempre intatto che se ne quando taglio un albero è fondamentale utilizzare il legno perché se se quell'albero cade per terra lo rimandiamo lì l'analite carbonica ritorna in aria e non va bene allora questo addirittura dovrebbe essere incentivato cioè l'uso del legno come materiale da costruzione dovrebbe essere molto incentivato perché le faccio un esempio molto banale ma mica tanto pensi che noi stiamo lavorando proprio su questo sui i crediti di carbonio legati al legno cioè all'uso del legno come funziona permettetemi questa cosa una piccola ostilla su come funziona un credito di carbonio oggi cioè se tu fai una cosa e la fai in una maniera tale per cui rispetto alla tradizionale eh al modo tradizionale risparmi anidride carbonica quella anidride carbonica te la puoi vendere la puoi mettere su un mercato quando tu costruisci una casa in cemento semplifico eh eh il cemento è di per sé oggi stanno trovando dei cementi nuovi ma non li hanno trovati però non si utilizzano il fatto che ci sia una ricerca non vuol dire che si utilizza di fatto oggi usiamo il cemento quello standard quello classico la cui produzione incide per il 13% dell'anidride carbonica prodotta annualmente cioè il cemento è una delle cose per capire le entità l'intera Unione Europea produce l'8% dell'anidride carbonica l'industria del cemento ne produce il 13% ok giusto per capire quando noi quindi al posto del pilastro di cemento di quello che è scusatemi in termini diciamo usiamo un affare di legno non solo stiamo risparmiando tutta l'anidride carbonica che serviva a produrre quel pilastro ma al suo posto ne stiamo stoccando ed è questa la questione fondamentale quella trave che rimane lì per 50 anni è un deposito di anidride carbonica cioè per 50 anni impedisce che quella anidride carbonica torni lì e per questo che è deve essere incentivato e premiato quindi io sono purché ovviamente il legno venga da foreste certificate e programmate dovrebbe diventare di gran lunga più importante stiamo facendo un grande un grande edificio in legno a Milano con Kengokuma che è sì anche lui però ce ne sono poche che Kengokuma è un pazzo scatenato su queste cose qui vuole costruire tutte le cose come i templi giapponesi e io sono contento costruiamoli e si fanno si possono fare noi siamo anche molto provinciali sulla questione delle piante e dell'anidride carbonica eccetera ad oggi sul pianeta ogni euro investito in alberi fissa mille volte più anidride carbonica di qualunque altra tecnologia cioè mille volte ma è proprio ci sono i lavori è molto chiaro un euro investito in alberi assorbe mille volte più anidride carbonica di qualunque altra tecnologia perché non li mettiamo perché siamo provinciali perché se si chiamassero se invece di chiamarsi alberi si chiamassero colonnine ad alta efficienza per l'assorbimento dell'anidride carbonica le staremmo coprendo il pianeta grazie mille 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 Grazie.